parole da non svuotare politica economia lavoro finanza il tentativo di questo percorso che vogliamo fare con i giovani della lombardia è quello di provare a ragionare insieme per anzitutto capire cosa c'è in gioco quando noi parliamo di queste parole e in secondo luogo provare a confrontarci anzitutto a livello locale dei vari gruppi e poi tutti insieme attraverso anche la possibilità di persone che a livello di pratica quotidiana trattano di questi temi sia a livello accademico che di vita e che quindi ci potranno aiutare e adesso lasciamo subito la parola al nostro vescovo monsignor gervasoni vescovo di vigevano delegato per la pastorale sociale lombarda che ci provoca e sarà un po lui a dare avvio a questo nostro percorso ecco proviamo allora a riprendere queste parole politica economia lavoro finanza le riprendiamo cercando di discutere insieme di approfondire insieme benché a distanza ma uniti in questo desiderio di ricerca e di approfondimento per dare valore vero a queste parole e per dare valore vero a queste parole occorre confrontarsi e capire che spesso ne facciamo un uso superficiale mettersi insieme con qualcuno che ci guida per farci vedere degli aspetti per sottolineare alcune attenzioni per scongiurare certe banalità è esattamente lo scopo di questo percorso la parola di riferimento è politica anche questa è molto abusata però politica si riferisce alla ricerca del bene comune e quell'atteggiamento con cui le persone le società cercano di permettere agli uomini di vivere bene di vivere in pace nella giustizia e nella collaborazione tra i componenti della società quindi lo sfondo è quello della politica però il cuore della riflessione va sull'economia anche questa è una parola che spesso è utilizzata a senso e ognuno dà a questa parola il significato che che preferisce e soprattutto se ha pochi soldi in tasca ritiene che l'economia sia una certa cosa di cui ha bisogno per vivere o per divertirsi mentre l'economia come dice la parola stessa e la regola della casa l'economia mette in relazione ambienti di vita situazioni di vita per permettere appunto la società di vivere allora l'economia certamente ha a che fare con i bisogni delle persone perché è lo strumento con cui noi ci procuriamo e ci scambiamo i beni di cui abbiamo bisogno per vivere l'economia ha certamente anche riferimento al lavoro che è un'altra attività dell'uomo che permette all'uomo stesso di costruire la sua vita e quindi costruire buone relazioni tuttavia questi atteggiamenti bisogni vitali e il lavoro hanno bisogno di regole per stabilire che non ci siano soprusi perché ci sia giustizia perché non ci sia qualcuno che deve che muoia di lavoro e perché non ci sia chi sfrutta gli altri e porta a casa vantaggi che non gli competono poi una cosa importante è che noi quando abbiamo a che fare con la società e quindi con l'economia abbiamo bisogno di introdurre delle regole ma queste regole non sono scritte chissà dove sono costruite insieme devono funzionare e allo stesso tempo devono tutelare un'altra cosa importante è che noi dobbiamo calcolare anche che partiamo dalla situazione concreta delle nostre esigenze vitali il quadro politico attuale ci mette davanti ad esempio allo scontro tra i bisogni del popolo italiano e le regole della finanza europea e spesso si ha la sensazione che siano regole oppressive astratte che ci stanno strette mentre il vero valore della politica è di gridare che noi veniamo prima delle regole ecco questo credo che possa essere un punto di partenza interessante per leggere invece che cosa vuol dire economia che cosa vuol dire regole che cosa vuol dire lavoro che cosa vogliono dire bisogni vitali ancora una provocazione ci può venire dall'ambiente tecnologico avanzato che porta a sospettare che potremo avere un futuro dove le macchine lavoreranno e gli uomini non lavoreranno più o potranno essere messi nella impossibilità a lavorare ma è pur vero che il confronto con le elaborazioni di sistema che la tecnologia e la scienza possono determinare non possono non far riferimento alle relazioni tra gli uomini le macchine non vivono gli uomini vivono anche qui tante paure tante generalizzazioni ma anche la necessità invece di capire come e quali sono le sfide che ci permettono di vivere bene una segnalazione importante data dall'ultima parola che è stata citata prima finanza evidentemente non mi riferisco alla guardia di finanza ma mi riferisco a un meccanismo a una struttura che permette l'elaborazione di sistemi di finanziamento di sostenibilità di progetto e di relazioni tra le persone in maniera virtuale che permettono esattamente la realizzazione delle opere umane dell'economia finanza però significa anche altre cose che rapporto c'è tra la finanza e il lavoro che rapporto c'è tra la finanza e l'economia reale che rapporto c'è tra la finanza e la giustizia questi sono tutti temi che vanno evidentemente approfonditi un ultimo richiamo importante che ha valore simbolico molto significativo lo shock ambientale ha riportato l'uomo alla necessità di non elaborare modelli economici che non tengano conto di regole di sistema che l'ambiente ha il rispetto dell'ambiente significa anche il rispetto delle persone significa anche che noi non possiamo far tutto ciò che desideriamo significa anche che se si toccano certi equilibri a cascata vengono certi altre conseguenze che a loro volta produrranno effetti che noi non immaginiamo neppure e che magari dobbiamo poi rincorrere per poter sopravvivere questa umiltà a cui l'ambiente ci richiama vale anche per le relazioni culturali per le relazioni tra persone che hanno delle idealità o delle religioni diverse e che tendono a chiudere il mondo e la valutazione del mondo nel loro orizzonte di comprensione e allora ecco la provocazione politica economia lavoro finanza viene a noi per imparare a capire innanzitutto cosa sta succedendo oggi ma anche come possiamo noi acquisire categorie e criteri che ci permettono di incontrarsi gli uni gli altri in maniera decisamente più critica e più costruttiva buon lavoro dopo il primo incontro fatto con monsignor gervasoni che in qualche modo apre diverse porte sul tema della politica e dell'economia il l'incontro successivo sarà incentrato in modo particolare sul rapporto tra politica ed economia mentre la politica ea sempre tradizionalmente rivestito la sfera dei fini mentre l'economia la sfera dei mezzi sembra che la postmodernità ci presenti invece un'inversione dei ruoli ovvero l'economia diventa la sfera dei fini mentre la politica diventa la sfera dei mezzi il periodo il periodo storico che abbiamo vissuto ci ha presentato alcuni aspetti del tutto innovativi parole che spesso abbiamo sentito parlare come globalizzazione finanziarizzazione dell'economia fenomeni nuovi e alcune volte non siamo in grado di capire esattamente la portata concettuale di questi di questi fenomeni allora quello che vogliamo fare è partire da alcuni esempi concreti cercando di capire come la realtà ci presenta delle situazioni che potevamo considerare infallibili e che invece di fatto hanno presentato dei punti di rottura pensiamo al fallimento di stati pensiamo al fallimento di grandi banche pensiamo al fallimento di grandi imprese a livello internazionale cose che pensavamo infallibili e invece l'azione dell'uomo quando non correttamente intesa può portare anche a queste situazioni questi fenomeni cercheremo di analizzarli partendo dal loro significato concreto e da lì cercare di capire quali sono i paradigmi virtuosi che possono creare una buona economia un'economia che attraverso anche le regole della politica può raggiungere il bene comune invece di un'economia in una finanza malintesa che invece possono creare situazioni di distruzione di bene comune e soprattutto distruzione di tessuto sociale una delle tesi di fondo che cercheremo di portare avanti è che nella situazione attuale nella quale ci troviamo per poter ricostruire una buona economia è necessario ricostruire innanzitutto un capitale sociale cioè un tessuto connettivo della società che deve essere ricucito per poter ricreare un buon tessuto economico quindi da questo punto di vista l'impegno soprattutto dei giovani che si avvicinano ai temi dell'economia e della politica deve essere connotato da questa responsabilità per questo il corso vuole cercare di mettere in luce queste dimensioni fondamentali per far sì che le persone possano meglio comprendere questi fenomeni farli diventare propri e spingersi anche verso un impegno concreto per la realizzazione insieme del bene comune perché un papa parla di economia e di lavoro in effetti questa domanda mi venne fatta a livello personale quando fui incaricato della pastorale sociale della diocesi ricordo che un mio ragazzo dell'oratorio mi disse ma non ma tu che stavi con noi adesso perché ti devi occupare di quelle cose che non c'entrano niente con la vita di un prete e la domanda che può sorgere dal dire ma perché un papa parla di economia di lavoro e non solo è una domanda corretta che però ha tutta una serie di risposte la chiesa nei secoli sviluppo un'attenzione a quello che accade dentro la società provando a intervenire su un piano etico cercando di dire una parola anche autorevole di fronte ad esempio delle ingiustizie che si generano quindi nella storia recente che è quella che dà via la cosiddetta dottrina sociale della chiesa in senso moderno noi vediamo che alla fine dell'ottocento precisamente nel 1891 leone tredicesimo interviene spiegando perché non è equo il modo con cui si sta lavorando dove donne e bambini devono lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno sette giorni su sette senza nessun riposo e quindi si rapporta la questione del capitale rispetto al lavoro nel 1931 più undicesimo interviene in un'enciclica intitolata quadragesimo anno precisamente a 40 anni da rerunovarum spiegando perché l'economia e l'etica hanno qualcosa in comune e questo a partire dai fatti del 29 il crollo di Wall Street è tutta una questione che portò la perdita di milioni di posti di lavoro con grossa disoccupazione e anche fallimento di aziende il più dodicesimo utilizzò i radiomessaggi in un tempo difficile per parlare di democrazia per parlare di economia per parlare di questioni che lui sentiva molto vive anche in situazioni drammatiche perché non dimentichiamo i conflitti che vi furono in atto Giovanni XXIII addirittura si mise a interloquire con i grandi della terra per cercare di riportare pace e la sua ultima enciclica del 63 la pace minteris richiama questa forza di quanto la pace è importante così come Paolo VI nel 65 di fronte all'ONU disse mai più la guerra e sempre Paolo VI parlò di sviluppo integrare della persona in quell'enciclica famosa che è la popolora un progressio Paolo VI porta avanti un'idea di un mondo che diventa mondiale e sente quanto è importante quindi un'attenzione anche alla distribuzione equa delle risorse Giovanni Paolo II riprende questi temi pensate alla Boreum Exercens 1981 con l'attenzione al lavoro che è una delle questioni su cui noi ragioneremo in questo percorso così come nella Centesimus Annus di dieci anni dopo sulle questioni dell'economia e nel mezzo la sollicitudo re socialis che ci parla di strutture di iniquità una chiesa che vede anche come l'uomo può generare un male che si allarga macchia d'olio se non c'è un'attenzione a riconoscerlo arriviamo a Benedetto XVI con la Caritas in Veritate un testo importantissimo sul quale anche sarà importante che voi leggiate qualche pagina perché ci mostra la globalizzazione e gli effetti della globalizzazione sull'economia e sulla vita delle persone e delle comunità e infine Papa Francesco con testi molto significativi come l'Evangelii Gaudium e la Rosatossi dove si riprendono temi anche che il nostro Vescovo Gervasoni ha richiamato come quelli dell'ambiente e quando Papa Francesco parla di ecologia integrale che possiamo considerare uno sviluppo delle riflessioni già fatte da Paolo VI e riprese poi da Benedetto XVI vediamo l'importanza di ragionare su un modello che tenga insieme l'uomo e l'ambiente perché se non si sta attenti si genera quella denuncia che Papa Francesco chiama paradigma tecnocratico dominante e che fa sì che tanto potere nelle mani di poche diventi un pericolo enorme ecco penso che sia importante quello che i Papi ci hanno detto e che anche noi lo possiamo conoscere Siamo di fronte a una sfida nuova quella di un progresso tecnologico che ha assunto caratteri che non ha mai avuto nella storia dell'uomo le macchine ci porteranno via il lavoro e tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana chi vincerà? saremo dominati dalle macchine è importante avere le idee chiare almeno su ciò su cui possiamo avere le idee chiare per esempio sul fatto che negli ultimi 200 anni che sono stati gli anni in cui l'accelerazione del progresso tecnologico si è più fatta sentire l'avvento delle macchine e anche dell'automazione non ha mai ridotto il tasso di occupazione anzi lo ha fatto aumentare sono scomparsi quasi tutti i mestieri che facevamo un secolo fa ma ne sono nati altrettanti e anche di più il problema è che la transizione dal vecchio al nuovo lavoro è diventata più complicata più difficile richiede maggiore assistenza maggiore sostegno a chi deve affrontare questa transizione e non è scritto da nessuna parte che il nuovo lavoro nasca là dove è morto il vecchio questo dipende da come ci si attrezza per sostenere e anche promuovere la transizione dal vecchio al nuovo di fronte a questa sfida l'umanità e in particolare le strutture della società le strutture dell'educazione, della formazione professionale, dei servizi al mercato del lavoro sono messe sotto stress vengono stimolate, sfidate e bisogna mettersi in grado di vincere questa sfida abbiamo degli ottimi motivi per pensare che l'uomo avrà sempre qualche cosa in più rispetto alle macchine basti pensare all'empatia, alla capacità di soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce ma non basta questa consapevolezza occorrono anche strutture sociali, amministrative, di servizio di cui dobbiamo attrezzarci questo sarà il tema del nostro ultimo incontro